Stasera indosserò il mio vestito migliore anche se ho pochi soldi e non ho niente da fare e accenderò la radio in cerca di una stazione se trovo le cartine potrei anche fumare da troppo tempo non riesco a lasciarmi andare Stasera Telefonerò ad un amico speciale uno tra i po...